Giovedì scorso, come sindaco della città ho avuto l'onore, il piacere e la gioia di firmare il decreto che autorizza un importante gruppo socio-sanitario della provincia di Foggia a realizzare una RSA in via Ercolano. RSA sta per residenza socio-assistenziale, questa residenza sorgerà ex novo sulla prosecuzione di via Ercolano e avrà una dotazione di 43 posti letto più 3 nel reparto per i malati di Alzheimer e prevede un investimento privato in gente, quindi due denaro che gira nell'economia della nostra città e Arvencine garantirà fra assistenti, infermieri e sanitari circa 50 posti di lavoro. Scusate se è poco.